Salve a tutti cari amici e ben ritrovati su un nuovo video di The Last of Us parte 2. Stiamo ancora cercando di raggiungere Acquario ed eravamo stati messi in una sparatoria o comunque abbiamo rischiato veramente tanto alla fine dell'altro episodio, ho dovuto lanciare 3 Molotov per uccidere un solo nemico, quindi capite che le cose non sono andate esattamente come volevo, però le cose nella vita non vanno mai come si vuole. Vediamo se possiamo gestire il tutto con arco ragazzi, ci sono ancora nemici in giro, di cui uno lì, ho visto, per una volta tanto sono io a vedere i nemici prima degli altri. Non c'è più. Era lì, eh? Quanti sono? Si mette fuori il faccino, lo... A terra, vai, vai Ellie. Ok, prima uccisione furtiva ad un minuto e 43 di video, ok. Bella domanda, Ellie, è ora. Non lo sappiamo ora cosa bisogna fare. Passiamo di qua. Allora, dunque... Allora, dunque... Ragazzi, ragazzi, ragazzi... Ce n'è più di uno. Dove è andata? Lo vantola. Perra. mannaggia ragazzi questa mira innanzitutto non ho capito perché mi ha tirato fuori la pistola se li cerchiate strozzi ok headshot scienziatore è venuto utile ecco qua per favore allora ragazzi questo l'hanno preso dal primo in chat ed è ok ci fa sempre vedere dov'è la barca dobbiamo capire dov'è la ruota panoramica ragazzi quindi tornate a mettersi il cappuccio la nostra quando piove ok indubbiamente qua si veniva solamente a ruotare questa parte ok c'era ok è stata sbagliata molto probabilmente strada chiusa non penso possiamo risalire rapide no ovviamente no ragazzi quindi se il gioco ci ha fatto venire qua è assurdo che non si possa procedere però l'unico sbarco possibile è questo ammetto di essere bloccato non si può procedere altrimenti a meno che dove siamo arrivati prima cioè allora non avrebbe dovuto farci prendere la cascata se una volta arrivati qua non si può procedere a meno che aspettate vediamo se si può passare oltre qua così sembra ok niente scherzo mmm la riusciamo a passare oltre al filo spinato allora proviamo a salire su di qua ci sono dei comandi della porta no ok fammi vedere se c'è qualcosa da notare del diario nuova voce vediamo ok ti avevo imparato di smettere a te la sei cercata ok abbiamo una pagina una nota bet se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia spero di essermene andato trionfalmente non per mano di qualche liena dai bip su tutto spero che ricordi dove hanno nascosto le scorte il codice 70 12 64 non è molto ma è quel che mi resta e voglio darlo a te non mollare quindi abbiamo 70 12 64 il codice di una cassaforte che non deve essere lontano eh allora qui abbiamo una parca 70 12 66 fatemi vedere se era giusto 64 e che poi li telefonano abbastanza eh e che poi li telefonano abbastanza eh inizio proprio lì vicino ah no 64 ragazzi errore mio andiamo su 64 ok vai cosa abbiamo qua dentro pezzi di ricambio ok va bene non si metti in giro cosa facevamo lo facevamo per andare a prendere il codice della cassaforte lì che sostanzialmente ci permette di creare armi da mischia non ne abbiamo di nuovo abbiamo la stabilità mira però le tappole esplosive extra e frecce esplosive extra ma quasi quasi aspetterei di avere queste perché sennò potrei solamente prendere la mira che poi non è male aumentare la stabilità da precisione e alla fine ci fa creare frecce extra così quasi lo faccio dai perché mirare è un bel problema quindi avere stabilità mira in più non fa schifo allora perfetto allora io a questo punto continuerei a dirigermi verso i dai ho preso il muretto eh fratelli c'è il paletto l'unico che c'era siamo vicini alla ruota panoramica cazzo non possiamo sparare dalla nave solo è l'influso ica ha cazzo 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 Ok Non so veramente dove Ah ecco dove ci facciamo oscillare Vai Ancora una Su di qua Ed ecco la nostra porta aperta Ok altre Pasticche E troviamo Messaggio del cecchino Non ce l'ha tirato fuori subito ma lo leggiamo adesso così Ho saputo che sarai tu a sostituirmi Volevo darti qualche dritta su questo nido Ragazzi non riesco più a leggere perché ho veramente registrato tantissimo Le iene sanno essere scaltri Non limitati a strada contro gli architetti Hanno anche loro dei cecchini Non uccidere gli infetti Le iene che sconfino dovranno vedersela con loro E quando hanno rivelato la proposizione Riminali Ho abbattuto un paio di loro cultisti E sto guardando gli infetti che ne divorano i corpi È uno spettacolo grandioso Ricorda non farti chiudere in un angolo Lotto per sopravvivere Per morire in fretta Back Avere la modifica dal fucile da cecchino Ragazzi qua c'era da divertirsi Zitta zitta Vai Giù Ok Carica Perfetto Carica Ok Ok Grazie a tutti. 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 Un altro di questi murales, diciamo. Si può tornare all'imbarcazione tranquillamente. Ok? Ottimo. Ottimo. Grazie a tutti. Allora. Allora... Proviamo di qua. Allora... Sì. Sì. Sfondiamo. Certo. Sarebbe troppo facile. Allora... Allora... Vediamo qua. Vediamo qua. Sfondiamo... Sfondame... 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 Quanto di movimento in più in fase di mira. Sfondame... 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 Arco... Arco... Ragazzi... Vai. Ecco l'ultimo potenziamento dell'arco. Perfetto. La nostra seconda arma portata al massimo. Dopo la nostra pistola. Ecco. Non possiamo fare più niente perché... Abbiamo troppi pochi... Però abbiamo... L'arco di cui... L'arco di cui cambieremo le munizioni. No. Scusate. Munizioni esplosive. Ecco qui. Siamo a posto. Allora. Soprattutto ne possiamo anche fabbricare altre di munizioni esplosive. Ho visto. Qui siamo nella sala giochi. Mmm... Non si può aprire. Mannaggia noi. Spingiamo quella. No. Allora. Ragazzi... Brotter? Sotto. prepariamo mi tiene che dobbiamo chiarare dentro allora ragazzi con questa sorpresa finale come avete visto io ho registrato veramente tanto quindi quasi quasi vi saluterei qui vi ringrazio di aver visto questo video questo ennesimo episodio di The Last of Us parte 2 appunto quindi noi ci vediamo alla prossima come sempre e grazie ancora d'aver visto il video quindi lasciate like se vi è piaciuto oppure iscrivetevi al canale attivando la campanella in alto a destra per sapere quando metto online una nuova parte di The Last of Us ciao a tutti e grazie ancora d'aver visto il video lo sto dicendo a ripetizione ma è sempre un piacere sapere che vedete il video ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti